Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Pisa University Press dal titolo Dante in attuale. Studi sul testo e sulla fortuna della commedia di Giorgio Masi, che abbiamo il piacere di avere il nostro gradito ospite perché ci parli di questo interessante volume e magari mi dica perché è inattuale. Quindi come mia abitudine io lascio subito la parola al nostro ospite perché ci racconti di questa avventura. Prego a lei. Grazie, grazie, la ringrazio. Ringrazio Maurizio Calì che mi dà l'opportunità di parlare del mio libro e senz'altro spiegherò il motivo di questo titolo apparentemente irriverente nei confronti di Dante ma in realtà secondo me motivato da ragioni che invece tendono a difenderne l'originalità e l'autenticità del dettato. Dunque per parlare appunto di questo libro vorrei intanto dire qualcosa brevemente riguardo le ragioni che mi hanno spinto a scrivere appunto questa monografia e illustrerò anche il contenuto del libro. Ecco, c'è da dire che per quanto riguarda i moventi che spingono a scrivere un libro sono sempre molteplici, non esiste una ragione per cui ci si mette lì e si fa una ricerca, si approfondisce un argomento, sono sempre numerosi i moventi che ci spingono. Però ecco, a me preme evidenziarne due, anche proprio per chiarire i motivi dell'impostazione di fondo di questo testo. E questi due moventi sono legati, il primo, alla mia attività, l'attività che svolgo, io insegno letteratura italiana all'Università di Pisa e ho dovuto spiegare spesso il testo della Divina Commedia durante i miei corsi che hanno avuto anche come argomento monografico il buon aridante, ma sicuramente i canti della Divina Commedia fanno sempre parte dei nostri programmi. Quindi praticamente da quando io sono a Pisa tutti gli anni ho dovuto parlare della Divina Commedia e questo mi ha portato a confrontarmi con un uditorio che reagisce in modi diversi e anche si è evoluto nel corso del tempo, perché ormai sono più di vent'anni che io mi trovo lì e quindi ho potuto anche constatare una sorta di evoluzione nelle reazioni, nel tipo di reazione che gli studenti hanno di fronte a questa opera. L'altro movente, qui ci avviciniamo alle ragioni del titolo, è l'aver sentito ripetutamente parlare di quest'opera, dell'opera più famosa insomma di Dante, per lodarla soprattutto in occasione del centenario naturalmente, del centenario del 2021, avere sentito sempre utilizzare questo aggettivo soprattutto da parte anche di non specialisti dell'opera di Dante, ma che vogliono promuovere appunto la lettura di Dante, che è attuale. Ecco, cioè questo poema è attuale. Ora, questi due moventi, quello appunto del confronto con i giovani, con gli studenti che si avvicinano a Dante e quello dell'uso che si ha non solo per l'opera di Dante, ma in generale per le opere più antiche, quando le si vogliono promuovere si dice che sono attuali, ecco questi questi due moventi sono fra di loro connessi, fra di loro legati, come cercherò di spiegare. Io credo che sia evidente che a chiunque ha un minimo di conoscenza dell'opera di Dante che non è affatto vero che questo poema è attuale, perché si potrebbero elencare davvero decine di motivi che dimostrano l'enorme distanza che esiste fra noi, fra le nostre attuali concezioni e quello invece appunto che emerge quanto Dante affida al suo capolavoro. Pensate alla visione del mondo che aveva Dante, che è completamente diversa da quella che abbiamo noi, pensate alla concezione morale, alla concezione morale e anche spirituale direi di Dante, è diversa, profondamente diversa dalla nostra. L'idea della politica, la politica strettamente, strettissimamente legata alla morale per Dante con una visione provvidenziale, figuriamoci siamo le mille miglia lontani dalla nostra e potrei andare avanti, l'idea di universo, la lingua stessa, insomma ci sono molteplici le ragioni che evidenziano appunto la distanza che esiste fra questo testo e noi. Sono sette secoli che non sono passati in vano, in quei sette secoli ci sono avvenimenti decisivi che hanno cambiato il mondo in una maniera radicale, quindi non possiamo far finta che questa distanza non esista. Ma non per questo la divina commedia cessa di essere un capolavoro affascinante, anzi per me al contrario, ecco io francamente non sono, non sarei interessato a scoprire qualcosa che conosco già, ecco vorrei confrontarmi con qualcosa, un mondo lontano dal mio, in modo da cercare di comprenderne le ragioni, da confrontare, da poter confrontare ciò che di buono, perché qualcosa di buono ci sarà stato in quel mondo lì c'era, e ciò che diciamo di meno buono, di migliorabile c'era e che è cambiato nel corso del tempo, anche perché questo poi ci consente di avere una visione critica anche sul nostro tempo, perché noi non possiamo usare il presente come termine di paragone assoluto per giudicare le epoche lontane, perché questo ci porta a dei fraintendimenti, dei fraintendimenti clamorosi, diciamo, perché questo non è un parametro critico affidabile, sostanzialmente noi dobbiamo tener conto della realtà in cui viveva l'autore che ha scritto quell'opera, che come ho detto era una realtà profondamente diversa dalla nostra. Questo è un fatto che non dobbiamo ignorare, ma che purtroppo, purtroppo, per varie ragioni, per varie ragioni, diciamo, a volte si tende a non considerare, soprattutto in questi ultimi anni, ecco, c'è proprio una tendenza, secondo me, estremamente deleteria a ignorare la contestualizzazione storica dei testi. Questa è un qualcosa che è avvenuto davvero nell'ultimo ventennio-trentennio, ecco, cioè si impongono i testi tutti sullo stesso piano, come se fossero stati scritti tutti nello stesso momento. E questo è estremamente rischioso, sbagliato e anche, devo dire, ingiusto nei confronti degli autori di questi testi. Allora, per capire perché questi due momenti in cui vi dicevo, appunto, quello della inattualità di Dante, questa ripetizione del Dante attuale, e il movente del doverlo spiegare a dei giovani immersi, invece, nel presente, sono legati fra di loro, io vi citerò, ecco, vi racconterò un po' quello che mi è successo e che è, secondo me, molto significativo in alcune lezioni, appunto, in cui ho spiegato determinati canti celeberni di quest'opera, quello di Paolo e Francesca, per esempio, quello di Brunetto Latini, quello di Pierre de la Vigne. Ecco, allora, prendiamo, per esempio, il canto di Paolo e Francesca, di fronte a questo testo, che è molto apprezzato per il valore poetico anche della descrizione dell'innamoramento da parte degli studenti, ecco, però, mi è capitato una volta, per esempio, che alla fine della spiegazione mi fosse chiesto da uno di loro ma perché Paolo e Francesca sono all'inferno? Questa sembra una domanda, diciamo, strana, nel senso che si dovrebbe dare per scontato che la loro situazione è quella di due peccatori, no? E sì, e dovrebbe essere chiaro, implicita, la natura del peccato. In realtà, appunto, questa domanda nasce da leggere questo episodio con occhi moderni, no? E non sono gli studenti dei miei corsi i primi ad averlo fatto, naturalmente, perché questo è un atteggiamento che hanno avuto anche grandi esegeti del passato, eh? Basti pensare, per esempio, a Fosco, ecco. Cioè, ma anche lo stesso Boccaccio, lo stesso Boccaccio, diciamo, esegeta di Dante, già porta la lettura di questo c'era il bel rimo canto in una direzione che non era quella voluta dall'autore. Cioè, praticamente, si tiene conto della bellezza, dell'amore tra i due cognati e si perde di vista la natura vera del dramma che loro vivono e non si arriva a capire perché Dante, quali sono le ragioni del coinvolgimento emotivo di Dante che addirittura arriva a svenire, no? Alla fine del racconto. Si pensa che lo faccia perché, appunto, è commosso dalla sorte di questi due giovani innamorati che sono stati uccisi da un geloso, insomma, che in fondo, ecco, appaiono come vittime. E questo è un totale travisamento, chiaramente, della volontà dell'autore. Per carità, i lettori possono fare quello che vogliono, ma se noi vogliamo capire, e non è male, non è un'attività oziosa, capire l'intenzione dell'autore, bisogna fare uno sforzo, cioè bisogna cercare di immedesimarsi noi, di andare noi verso il testo, non portarlo, non leggerlo con i nostri occhi, cioè assumere gli occhi di un lettore medievale, cercare di ricostruire anche quali erano le intenzioni, per esempio, didattiche. Perché Dante insiste tanto a volersi fa spiegare il punto, il momento in cui si passa dall'innocenza al peccato. Ecco, questo è il dramma. E poi la natura appunto stessa dell'immedesimazione di Dante, il gioco di specchi, lui che si specchia in Paolo e Francesca e loro due che si specchiano nella vicenda di Lancilotte e Ginevra. Ecco, tutto questo ha un senso, ha un significato, ha un valore. Ecco, è questo che bisogna capire se si vuole dare, se si vuole avere rispetto anche dell'autore che ha scritto questo testo. Vi racconto, ecco, questo è abbastanza eloquente, ma forse ancora più eloquente quanto mi è stato chiesto da uno studente nel momento in cui appunto gli avevo spiegato il canto di Brunetto Latini. La domanda in questo caso è sta, ma professore, ma allora Dante era omofobo? Ecco, allora, anche questo è un atteggiamento di giudizio con occhi moderni. Anzi, io direi, anche da questo punto di vista, se noi riusciamo a fare questo salto di sette secoli all'indietro e riusciamo a riportarci nel momento in cui Dante scrive quel canto e cerchiamo di indagarne le intenzioni, per esempio viene fuori che naturalmente nell'ambito della teologia del tempo, nella visione teologica e morale del tempo, la sodomia, tutti i tipi di sodomia naturalmente, non soltanto quella omosessuale, era condannata, era un peccato, un peccato mortale, era un peccato mortale. Ma se noi leggiamo il canto di Brunetto, Brunetto Latini non è visto, non è guardato dal Dante Pellegrino, dal personaggio Dante, come il rappresentante del suo peccato. Dante mostra un atteggiamento di grandissima umanità nei confronti di quel personaggio, nonostante il suo peccato. Questo non avviene sempre. Ci sono dei peccatori che il Dante personaggio disprezza, alcuni addirittura contribuisce lui stesso alla pena, riprende a calci, insomma. Invece nel caso di Brunetto Latini non c'è disprezzo, non c'è disprezzo. C'è una sorta di sorpreso rammarico, quando appunto lui, vedendolo, dice voi qui, voi qui, ser Brunetto. In quel voi qui c'è già proprio tutta la sorpresa rammaricata di Dante e l'affetto e la reverenza rimane, rimane, non viene meno. Quindi non c'è affatto e naturalmente però bisogna considerare la realtà del suo tempo. Ecco, un atteggiamento di questo tipo è un atteggiamento fortemente umano, fortemente, diciamo, che non dimentica l'umanità a favore di una didascalica esposizione dei peccati, rassegna dei peccati. Questo non è poco, non è poco per un autore del Medioevo. Ultima domanda significativa, ecco, da questo punto di vista. Quando ho parlato di Pier della Vigna, no? Bene, Pier della Vigna mi è stato detto, ma come? Ma se Pier della Vigna era stato vittima dei calumniatori, perché non era vero che lui avesse tradito Federico II. Questa, diciamo, è anche la posizione evidente di Dante. Dante, diciamo, vede il momento del passaggio di Pier della Vigna dall'innocenza alla colpa solo nel momento del suicidio. Ma allora Pier della Vigna è una vittima, è una vittima, no? Anche qui, noi oggi come guardiamo ai suicidi? Noi oggi, diciamo, io parlo naturalmente sempre della mentalità diffusa, comune, ecco, non sto parlando di teologi o, diciamo, di figure particolari. Comunemente noi proviamo, giusto appunto, pietà per i suicidi perché spesso abbiamo anche un vero reato che è l'induzione al suicidio, no? Ecco, noi vediamo le cose da questo punto di vista, quindi Pier della Vigna a noi sembra una povera vittima di calumniatori, una povera vittima, non quello che è, cioè per Dante. Ed è anche difficile, anche per tanti esegeti, anche di altissima levatura, è stato quasi preso a pretesto il testo di Dante per prendersela con il peccato più che per dire effettivamente, per capire effettivamente come Dante spiega il gesto di Pier della Vigna. E questo è un tema piuttosto controverso che io ho cercato di affrontare in uno dei capitoli del libro. Allora, queste domandine, insomma, ecco, a cui io sono tenuto a rispondere, che per fortuna, insomma, mi vengono poste perché mi offrono l'opportunità di chiarire certi aspetti e anche i propri aspetti che riguardano la distanza che c'è fra noi e questo testo, che viene meno, è venuta meno anche perché spesso si sono costruite le stesse antologie scolastiche in modo da fare dei paralleli fra testi di stanti secoli fra di loro come se fossero tutti sullo stesso piano. E questo, secondo me, è stato un errore, è stato francamente un errore. Per avvicinarci a questi testi, noi dobbiamo ricostruire la visione del mondo di Dante, per quello che possiamo fare naturalmente. Ecco, ciascuno di noi deve fare comunque questo sforzo. Allora, per non farla troppo lunga, insomma, voglio, diciamo, dire che cosa c'è, che cosa troverà il lettore, insomma, in questo mio libro. Allora, questo, come ha detto Maurizio Calipri, presentandomi, è un libro che è stato pubblicato da una casa editrice universitaria e i capitoli che lo compongono hanno il rigore di saggi accademici. Quindi, naturalmente, l'impostazione è quella del saggio accademico, con diverse sfumature, devo dire, anche all'interno di questa impostazione complessiva. Però, ci tengo a dire che io l'ho scritto pensando che potesse leggerlo anche una persona di media cultura, quindi non necessariamente uno specialista, non necessariamente. Dico una cosa per tutte, tutte le citazioni dei testi in latino, tutti i testi in latino sono tradotti, quindi troverete il latino e la traduzione. Quindi, anche chi non conosce lingua antica, è chiaro, appunto, ecco, per avvicinarci alle opere di Dante, naturalmente, è necessaria la conoscenza del latino, ecco, perché Dante stesso, Dante stesso, ecco, noi, se noi vogliamo conoscere la cultura di Dante, dobbiamo conoscere opere scritte in latino e Dante stesso scriveva anche in latino, ecco, quindi molte citazioni necessariamente, testi di riferimento, sono in latino e io le ho sempre tradutte. La struttura di questo libro è abbastanza semplice, perché è un libro che è diviso in due parti. La prima parte contiene, diciamo, si possono definire delle letture di canti che sono tra quelli a cui ho accennato prima citando le domande degli studenti e sono canti che hanno subito, come vi discelevole, conseguenze nel corso dei secoli di letture svolte, di interpretazioni, quindi interpretazioni critiche, spiegazioni dei canti, svolte da interpreti, esegesi, esegeti che si basavano sui propri convincimenti e sui propri gusti, piuttosto che sul rispetto delle intenzioni dell'autore. Questo avviene e lo si può constatare per il canto di Paolo e Francesca nel primo del capitolo della prima parte, dedicato appunto al quinto dell'inferno, e io appunto contrappongo a queste interpretazioni diciamo soggettive, attualizzanti, quelle che a mio parere sono quelle più vicine invece alla volontà e al messaggio che l'autore intendeva trasmettere con questo splendido episodio poetico della sua poema. Il secondo capitolo si concentra sul canto di Pier della Vigna e si concentra soprattutto su quello di cui parlavo prima, cioè il movente del suicidio, in particolare un'espressione, ecco anche qui devo riportarmi alla mia esperienza di insegnamento universitario, quando io faccio la parafrasi del testo agli studenti, tutte le volte che arrivavo a parlare dell'animo mio che per disdegnoso gusto compie il gesto fatale, quel disdegnoso gusto mi risultava sempre molto difficile molto difficile, anche perché appunto è uno di quei tanti punti controversi nella secolare, nella secolare esegesico, nel secolare commento, come si dice, della Vigna Commedia. Quindi ho cercato di ricostruire quale fosse il punto di riferimento utilizzato da Dante e il significato di quell'espressione e nel far questo, nel far questo e in questo diciamo il capitolo è coerente con l'impostazione del libro, ho sempre tenuto presente quali sono state le diverse interpretazioni nel corso del tempo di questa espressione e qui per esempio molto significativa è quella di un grandissimo, di una figura di primissimo piano della nostra storia letteraria non solo, che è De Santis. Allora è celeberrima la lettura del canto di Pier delle Vigne di De Santis, però su questo particolare aspetto e sull'interpretazione della figura di Pier delle Vigne è una lettura totalmente fuorviante, totalmente lontana, lontanissima, che quasi non tiene neanche conto di quello che aveva scritto Dante, ecco arrivo a dire questo, perché per De Santis che parlava poco prima del 1860 e le date sono importanti, ha un pubblico di giovani torinesi, se la prende a morte con questo personaggio di Pier della Vigne in quanto suicida dicendo che era un codardo, un codardo, si è suicidato perché appunto non aveva il coraggio di sopportare, di vivere, ecco. In realtà il movente, cioè questo proprio disdegnoso gusto nell'idea del disdegno, il disdegno è una parola, vedete la lingua anche distante, no? Che nella lingua di Dante significa disprezzo. Uno che disprezza non è un codardo. Il movente di Pier della Vigne è un movente di superbia, è legato alla superbia, come tutti i peccati, ma in particolare questo lo si ricava da un testo che Dante aveva ben presente nel momento in cui elabora la struttura delle colpe, no? Che era la Somma Teologica di Santo Maso. Nella Somma di Santo Maso io credo di aver individuato il punto che fu tenuto presente da Dante per elaborare appunto quella famosa terzina in cui Pier delle Vigne spiega perché da giusto che era attraverso questo disdegnoso gusto diventò ingiusto, rese se stesso colpevole, no? Ed è un momento legato a un'attitudine di disprezzo verso la vita stessa in qualche modo, di mancato attaccamento alla vita e di senso di superiorità sulla vita stessa, quindi quel rifiuto della vita che va contro natura perché l'amore per la vita è, diciamo, nella visione anche di Santo Maso, è un amore istintivo, no? Per tutti gli uomini. Andare contro quell'istinto, arrivare ad andare contro quell'istinto, quindi perdere totalmente la paura della morte, della propria morte, dandosela da soli, per Tommaso, per Santo Maso è un peccato ancora più grave dell'omicidio ed è un atto di superbia. lo dimostra la dislocazione anche all'interno del cerchio dei violenti, prima ci sono i violenti contro il prossimo, poi ci sono i violenti contro se stessi, quindi si va verso il basso, un gradino sotto, no? Dante tiene presente questi aspetti, molti esegetti continuano, hanno continuato anche in tempi recenti invece a parlare di psicologia del personaggio. Ecco, questo è un approccio anacronistico, perché in Dante questo concetto che oggi noi abbiamo, questa idea della psicologia come scienza, no? Che è stata elaborata nell'Ottocento, era totalmente estranea, totalmente estranea da anni. Dante ha una visione che si basa appunto su parametri che sono quelli della della morale, della morale spirituale. Infine, ecco, il terzo capitolo, un altro personaggio, anche questo, anche questo, diciamo, per me interessante e con una presenza effimera ma estremamente significativa nel poema che è quello di Pia, che non è dei Tolomei, se leggete le note del libro vedrete insomma che si dubita molto e secondo me ha ragione che la famiglia fosse quella. Questo personaggio, questo personaggio, diciamo, presenta un grande interesse perché è emblematico nell'uso di un linguaggio che lo avvicina, lo avvicina, l'uso del linguaggio anche in pochissimi versi, sono sette versi sostanzialmente, l'intervento della Pia alla fine del quinto canto del Puglatorio, però in questi sette versi ci sono delle espressioni che sono strettamente legate, per esempio, anche quella più famosa forse, ricorditi di me, ecco, sembra un'espressione banale, no? Bene, dietro quella sollecitazione c'è la Bibbia, quella è un'espressione che non sembrerebbe legata a valori spirituali e invece lo è, lo è in maniera secondo me molto evidente perché è un'espressione che si trova spesso all'interno della Sacra Scrittura proprio nelle preghiere, nella preghiera che si rivolge, il punto di riferimento sicuramente di Dante è quanto dice il buon ladrone a Cristo sulla croce, ricordati di me quando sarai nel Regno dei Cieli, no? E quel ricordati di me del ladrone però come spesso avviene nel Nuovo Testamento, il Nuovo Testamento cita il vecchio, le parole del Nuovo Testamento sono collegate a quelle delle preghiere del vecchio, insomma questa espressione non è un'espressione banale, non è un'espressione appunto, se noi la leggiamo con i nostri parametri, ci sembra, oh ricordati di me, già la scelta, comunque ora non la voglio far troppo lunga, già la scelta del verbo ricordati è cosa diversa da abimemoria di me, che altre volte Dante, rimembriti, ecco rimembriti lo usa in altri luoghi Dante, ma è profondamente etimologicamente diverso da ricordati, in ricordati c'è il cuore, no? Ecco è una cosa ben diversa, rimembrati, è un'altra faccenda. Allora la seconda parte invece è dedicata, del libro è dedicata al rapporto fra Dante e tre personaggi, due molto famosi, uno molto meno, che sono Michelangelo, Anton Francesco Doni e William Shakespeare. E in questo caso ecco non si tratta per questi personaggi di esegesi, non sono degli interpreti, sono tre figure che si riappropriano appunto dell'opera di Dante e lo fanno in modo molto originale e direi anche molto felice, ecco, quindi in questo caso la differenza è che non si tratta di spiegare Dante con i propri parametri, si tratta di farlo proprio e con intenzioni creative, ecco, che è una cosa diversa. Quindi si vede che Dante ha una grandissima importanza per l'ispirazione anche artistica di Michelangelo. Direi che Dante funge per Michelangelo soprattutto da punto di riferimento come teologo. Dante è il vero teologo di Michelangelo, molto di più di quanto non si dica ora riguardo appunto i presunti, secondo me, legami dell'artista con la riforma che io anche qui metto in discussione. Anton Francesco Doni è un autore fiorentino del Cinquecento che tra le altre cose si ispirò a Dante per mettere insieme un'opera in prosa, dei dialoghi che sono una specie di parodia e sono molto originali della Divina Commedia, sono i suoi infermi, siamo alla metà del Cinquecento. Anche questo molto interessante perché appunto si vede come in qualche modo sia legato anche proprio alle illustrazioni della Divina Commedia per creare la sua opera. Infine, e con questo chiudo, propongo un testo che a mio parere dovette costituire il tramite che consentì a Shakespeare di conoscere proprio il canto della Pia, soprattutto il punto appunto finale del quinto canto. Fonte, a mio parere, per alcune celeberne scene del suo Amleto. E con questo chiudo scusandomi per aver abusato del mio tempo. No, anzi, è molto interessante. Bisognerebbe avere il tempo di poterla ascoltare molto più a lungo e in maniera più diffusa, anche perché il tema non è di quelli semplicissimi. Se per settecento anni si sono arrovellati tutti su interpretazioni, letture, trasposizioni, esegesi intorno a quest'opera. Quindi adesso la cosa più importante è ricordare il titolo in modo che possano andare a comprarsi il libro, che è la cosa migliore da fare. Il titolo è Dante in attuale, appena pubblicato da Pisa University Press, studi sul testo e sulla fortuna della commedia di Giorgio Masi, che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite e che io ringrazio davvero tanto. Mentre a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove insieme a questa troverete anche tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora professore e spero a presto. Grazie a lei, grazie a lei. Buongiorno a tutti.